Ecco, non sei stata per caso un po' troppo affettuosa con lui? Affettuosa? Non afferro. Ma come non afferri? Vada, io non ti faccio nessun rimprovero, eh? Io credo perfettamente che tu non ti sei accetta di niente, ma... Capirai che sia un bell'essere amici d'infanzia, sia uomini lo stesso, no? Ho paura di capire. Oh, non aver paura. Non è possibile, sarebbe desolante. Eh? Desolante. E se n'è andato per questo? Sì, sì. E soffriva molto.